Rischiano di non avere un futuro le scuole dell'infanzia paritarie di San Bonifacio, popoloso comune dell'est veronese. A lanciare l'allarme, quello del non ce la facciamo più, sono i rappresentanti dei rispettivi comitati di gestione. Lo dicono chiaramente in un documento distribuito alla popolazione. Queste scuole non ce la fanno e rischiano la chiusura per l'esiguità del contributo comunale e questo a fronte del servizio garantito. Diciamo che la politica potrebbe intervenire per portare un aiuto concreto attraverso una stipula di convenzioni particolari che in modo tale che possano dare quel contributo, quel sostegno alle famiglie e anche in modo tale da calmirare quelle che sono le rette che attualmente la crisi sta colpendo le famiglie e non possono avere piena disponibilità economica per superire anche ad aumenti esponenziali che stiamo avendo in questi ultimi periodi. Le quattro materne paritarie di San Bonifacio accolgono complessivamente la metà del totale dei bambini a cui si aggiungono cetto otto frequentanti nidi integrati e le sezioni primavera. Tenendo presente che le scuole dell'infanzia statali san bonifacesi accolgono complessivamente 391 bambini e le paritarie 384, queste coprono il 50% della domanda che le strutture pubbliche non riuscirebbero a soddisfare. La nostra scuola, come le altre scuole paritarie, scuole dell'infanzia di San Bonifacio, è una scuola di ispirazione cristiana. È pubblica ai sensi della legge 62 del 2000, quindi è una scuola che offre un servizio aperto a tutti, tutti si possono iscrivere, devono accettare naturalmente quello che è il progetto educativo che ricalca l'ispirazione cristiana e abbiamo la presenza di una testimonianza religiosa da parte delle suore dorotee. C'è una suora che per noi è una testimonianza importante, viva, che mantiene quella che è l'ispirazione cristiana, che ci accompagna nel percorso di RC il martedì mattina. Nonostante i comuni di tutto il Veneto abbiano consolidato ormai da tempo con le scuole dell'infanzia locali un rapporto di convenzione, erogando un contributo diverso da comune a comune, le differenze rimangono però notevoli. Il costo anno di un bambino alla scuola statale è di 6.351 euro, il contributo che finisce alla paritaria è di appena 500. Questo vuol dire, speriamo di no, la parola chiudere è una cosa che ci fa male, è una parola che vorremmo cercare di evitare ma che comincia un po' a, come dire, a leggiare nell'aria e non vale solo per la nostra scuola qui di prova, vale per tutte le scuole paritarie dell'infanzia e di San Bonifacio. Ci troviamo in grosse difficoltà perché il contributo, in modo particolare, quello che ci viene erogato dal comune è al di sotto della metà della media del livello di sopravvivenza calcolato dalla Fisma, che è di 1.000 euro e perché ci troviamo a dover far gravare quelle che sono le rette in maniera più sentita nei confronti dei genitori.